Sì, due, tre, tre, va benissimo, va bene, no no, carissimo, mi piace, mi piace, va bene, sì? Sicuro, sicuro, ti ringrazio, adesso mi verrà di sicuro una buona idea, a presto, ciao! Cosa approximately un'idea? deve arrivare un'idea ascolta ti metti là i disegni come sempre fatto le idee ti vengono uno dietro l'altro senza pensarci troppo ma scusa mettiti su Pinterest certa vedi cosa è stato fatto e rielabora cambio bosa relax a morte relax ma se anche io a volte trovo ispirazione nelle parole che posso fare nelle immagini il pastello il pastello il pastello una buona idea il pastello il pastello il pastello il pastello una buona idea il pastello il pastello il pastello una buona idea il pastello il pastello il pastello il pastello una buona idea